Cerqueto e i suoi tesori. È la nuova cartolina marcianese con Michele Capoccia. Cerqueto è uno dei più bei borghi del comune di Marsciano. È posto sulla collina che divide la media valle del Tevere dalla valle del Nestore. Cerqueto è anche custode gelosa di capolavori dell'arte rinascimentale. Quello che state vedendo è la crocifissione di Tiberio d'Assisi. L'affresco fu compiuto dal maestro Umbro nella prima metà del Cinquecento. Ma la cosa più pregevole che è ospitata nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cerqueto è sicuramente questo affresco di Pietro Vannucci detto il Perugino. La prima opera datata e firmata dal maestro Pietro Vannucci nel 1478. Il San Sebastiano. Il San Sebastiano che fa parte, come sappiamo anche dalle fonti, di un apparato pittorico decorativo molto più ampio che però è andato distrutto. E vediamo bene che il San Sebastiano è, diciamo così, in compagnia di San Rocco e molto probabilmente anche di San Pietro. Questa è una delle opere più belle del Vannucci perché è una delle prime opere, non è ancora il Vannucci ripetitivo delle ultime commissioni nella sua lunga vita artistica. Sempre di Tiberio d'Assisi è il frammento con il volto della Madonna. Il periodo è pressoché lo stesso della crocifissione e il frammento è parte di un'opera più grande che raffigurava la Madonna della Misericordia, un tema iconografico ricorrente nelle chiese e delle campagne marcianesi. Posto al limite del Borgo Antico, in quella che veniva chiamata Porta Maltara, vi è l'edicola di Santa Lucia, un altro splendido esempio di arte rinascimentale. Il periodo a cavallo del Cinquecento è stato un periodo di pestilenze e quest'area ne fu particolarmente colpita, però paradossalmente è stato anche il periodo più prolifico dal punto di vista artistico. Si sostiene che il magnifico apparato ricorativo dell'edicola di Santa Lucia sia stato compiuto dal giovane Raffaello Sanzio. Questo sarebbe un'altra perla aggiunta a questo già magnifico tesoro che è Cerqueta, un luogo assolutamente da scoprire e da visitare. Grazie a tutti!